Ancora insistete a voler credere nel globo. L'aereospia U2 Dragon Lady effettua il primo volo con la nuova suite avionica, 2 ottobre 2023. Questa che vedete è una pagina tradotta automaticamente. Nella descrizione del video trovate il link dell'articolo originale. Purtroppo per dignavi scrittori degli articoli colpevoli di indolenza o di viltà di fronte alla responsabilità del proprio lavoro, la verità viene sempre alla luce. Non è mia abitudine tediarvi leggendo per intero ciò che vedete. Pertanto, se vi garba, fermate il video e leggete tutte le informazioni perché il punto importante è questo. L'idea era di fare un passo avanti utilizzando varianti di bombardieri e caccia ad alta quota, creando un aereo su misura che funzionasse da basi avanzate in Gran Bretagna e altrove e che potesse volare su lunghe distanze a un'altitudine di 70.000 piedi, 21.300 metri. E poi questa parte. Volando a quote così elevate, l'U2 è un aereo rapidamente dispiegabile Rileggiamo che può vedere per molte migliaia di miglia nel territorio nemico, sia fotograficamente che elettromagneticamente, pur rimanendo al sicuro nello spazio aereo internazionale. Aprite qualsiasi calcolatore online della curvatura terrestre e inserite i dati. 70.000 piedi di altezza. Nell'articolo scrivono che può vedere per molte migliaia di miglia nel territorio nemico e noi inseriamo solo mille miglia, non molte migliaia di miglia. Calcoliamo distanza-orizzonte 324 miglia virgola 259 Eppure abbiamo appena letto i dati della narrativa dove l'aereo può vedere per molte migliaia di miglia nel territorio nemico, sia fotograficamente che elettromagneticamente. Noi lo sappiamo. Ma voi, ancora continuate a credere a quello che vi raccontano i media, ovvero nella Terra Globo? E se invece dei racconti dello spazio stessero facendo le stesse cose con la storia, con la politica, con la religione, se non con le malattie? Indagate attraverso il prezioso indice alfabetico e cercate tutti i video bannati dal regime in atto. Scoprirete così come diventa facile liberarsi dalla paura una volta tolta la zavorra del sistema di indottrinamento indotto fin da piccini. Non dimenticate che credere è nemico di conoscere e che la fede è un'accettazione passiva di un sapere che non si conosce. Grazie per il vostro tempo e ritornate liberi, libere. Sempre a disposizione, in bianco e nero, il libro Il Risveglio a colori solo nella versione ebook.